ragazzi buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletti oggi perché i pettorali non crescono questa domanda che mi avete fatto ho lanciato ormai un po questa serie dei perché per andare a rispondere in maniera veloce a dei quesiti per tutte quelle persone che si allenano perché non crescono i pettorali e perché non crescono i pettorali pettorali non crescono principalmente per una natura che ognuno di noi geneticamente ha ognuno di noi ha una predisposizione alla crescita il pettorale è un muscolo che risente di tanti fattori in primis della genetica anche perché ci si vede si vedono persone che magari non allenano neanche così tanto il pettorale hanno un bel pettorale pieno ampio con una superficie molto sviluppata altri soggetti nonostante abbiano uno grande sviluppo muscolare hanno il pettorale sempre un pelino un po indietro rispetto agli altri distretti corporei allora capite bene che in questi casi bisogna provare ad allenare al meglio i pettorali cercare di praticare gli esercizi alla perfezione questo secondo me è il vero segreto per riuscire ad andare a lavorare bene con il gran pettorale e cercare il suo miglior sviluppo muscolare ecco potete lavorare anche più di una volta la settimana con il petto se avete un minimo di esperienza e provare a stressare di più il grande pettorale può essere un modo per provare e vedere se con un allenamento più frequente più volume più carico su questo gruppo muscolare risponde in maniera differente da quello che avete sempre fatto quindi il mio consiglio è sicuramente fare un periodo di da uno a tre quattro mesi in cui stressate di più il petto e vedere quello che succede ecco ricordatevi sempre di misurare la circonferenza del giro petto è vero che la circonferenza del giro petto risente anche del dorsale però comunque deve aumentare di di numero questa circonferenza se volete andare a migliorare la dimensione un po del vostro petto quindi questo è quello che vi consiglio come andare a stressare il gran pettorale in questa situazione provare andare ad allenarlo sotto diversi punti di vista quindi andare a fare delle sedute più orientate alla forza con i grandi diciamo fondamentali per il gran pettorale quella panca inclinata la panca piana le spinte con i manubri che vanno benissimo anche su varie inclinazioni per colpire sia i fasci più bassi quelli intermedi che quelli più alti e poi andare ad organizzare magari delle sedute più ipertrofiche più metabolico per andare a colpire altri aspetti del muscolo noi sappiamo che il muscolo può essere colpito sotto vari aspetti dalle miofibrille all'aspetto più sarcoplasmatico e quindi noi per riuscire a sviluppare il massimo potenziale dei nostri muscoli del nostro gran pettorale dovremo provare a sfruttare un po tutte queste capacità di adattamento del nostro muscolo quindi dobbiamo colpirlo sotto veramente ogni aspetto e questo ci può permettere di andare a guadagnare dei centimetri importanti e questo vi permetterà di avere uno sviluppo migliore del gran pettorale ecco ma ricordo che ognuno di noi riuscirà a crescere muscolarmente in funzione di quello che è la conformazione del proprio gran pettorale perché qua c'è una c'è proprio inserzione origine che sono dettate da un'anatomia individuale di ognuno di noi e quindi voi riuscirete ad esaltare questa forma del vostro gran pettorale da un punto di vista anatomico però tutti possono allenare tutti possono migliorarsi quindi il mio consiglio provate a darci veramente dentro per 1 2 3 4 mesi e vedere quello che succede io sono sicuro che se non avete mai fatto questa intensificazione dell'allenamento sul gran pettorale io sono sicuro che questo vi porterà grossi miglioramenti mi raccomando lasciatemi un commento qua sotto dicendomi un po la vostra e se avete provato a mettere in pratica questo consiglio e come è andata come sempre grazie per l'attenzione ci si vede qua sul mio canale come ogni giorno ciao